Dosi di rinforzo e booster. L'ASL di Salerno prosegue con le attività di somministrazione delle dosi addizionali per mettere in protezione dal covid le persone più a rischio. Dosi addizionali ai pazienti immunodepressi e dializzati dopo 28 giorni. Dosi booster che si somministrano a distanza di sei mesi dall'ultima somministrazione. Attenzione rivolta soprattutto alle persone fragili agli anziani ma intanto si guarda al personale medico e sanitario non vaccinato. L'ASL sta inviando le lettere di sollecito alle persone interessate. Come ha chiarito ai nostri microfoni il responsabile covid dell'ASL di Salerno, il dottor Arcangelo Saggese Tozzi. Queste vaccinazioni sono riservate ne addizionali agli immunodeficienti, a quelli che hanno una carenza del sistema immunitario e noi stiamo privilegiando in questo contesto una vecchia strategia che abbiamo utilizzato che è quella di vaccinare presso le dialisi. I dializzati rientrano in questo gruppo, ci sono già 400 persone che hanno fatto la seconda dose ormai sei mesi fa e che dalla prossima settimana, da domenica, iniziamo a vaccinare presso le dialisi stesse. Poi c'è il gruppo del Buster, che sono le dosi da fare a persone oltre gli 80 anni residenti in strutture sanitarie per anziani. Anche qui siamo in procinto di partire, abbiamo contattato le diverse RSA, ci stanno mandando gli elenchi e a brevissimo partiremo a fare queste dosi aggiuntive. Ovviamente queste dosi aggiuntive si possono anche fare presso i centri vaccinali già adesso a presenza. Se le persone si presentano in queste caratteristiche riceveranno anche la dose o aggiuntiva o la dose Buster. Dottore, il fatto che la Campania sia anticipando le vaccinazioni e per gli immunodepressi e per quanto riguarda i bluster significa che non bisogna abbassare la guardia, che c'è la necessità di proteggersi e che al di là del vaccino che ormai ha raggiunto l'immunità di Greggia il rischio è sempre alto? Certamente, non bisogna abbassare la guardia in modo assoluto almeno per i prossimi mesi. Noi abbiamo avuto una buona copertura, però abbiamo bisogno di vaccinare almeno altre 30.000 persone prime dosi e altre, se faccio la somma complessiva, altre circa 200.000 dosi complessive da fare. Con questi numeri noi saremmo protetti, siamo veramente in una situazione ottimale. Ovviamente però le situazioni più fragili, per cui gli immunodepressi o gli anziani, hanno bisogno di una protezione aggiuntiva. Questa è la scelta che la Regione Campania ha anticipato per gli anziani, questa è la scelta anche nazionale di fare questa dose in più. Questa dose aggiuntiva sicuramente si sarà fatta anche agli esposti professionalmente in progressione. L'altra notizia importante è che stanno lì per essere allungati nei termini di validità del Green Pass, per cui da 270 giorni passiamo a 360. I nostri Green Pass, i primi fatti, comunque non c'è nessun allarme, perché cadono intorno al 20 ottobre, per cui abbiamo un altro mese di tempo perché si riparta con la vaccinazione allargata anche ad altre categorie. A breve si partirà anche con le vaccinazioni, le terze dosi per il personale sanitario, ma frattanto è stata ufficializzata la lista dei medici e dei sanitari che non si sono vaccinati. Da qui presto scatteranno provvedimenti? Sì, diciamo che noi stiamo mandando le lettere a queste persone. Devo dire che sulle lettere che mandiamo abbiamo una buona risposta, nel senso che buona parte, diciamo il 70, quasi l'80% delle persone che dicevano le lettere ci rispondono che hanno già effettuato la vaccinazione o sono intenzionato a farla. C'è un 2-3% che resiste, su queste persone agiremo comunicando i nomi alle strutture, agli ordini professionali. In aiuto sicuramente ci viene in questo senso il fatto che con l'estensione dell'obbligo del Green Pass questa situazione più difficilmente può sfuggire. Chiunque voglia lavorare in questo momento, in vari contesti, deve avere il Green Pass, il Green Pass si riceve col vaccino, con la malattia, una volta guariti, col tambone, ma certo non credo che sia una vita facile fare il tambone ogni 48 ore.